Si intitola l'Italia a le mani sporche di sangue. Questo ottimo servizio, affirma di vino già russo alla Iana con la barba. Vino già russo si pone una domanda a cui cerca di rispondere attraverso questo pregiato servizio. E' legale vendere o far transitare dall'Italia aerei da caccia dell'Arabia Saudita utilizzati per bombardare un punto interrogativo ed ecco che il buonte parte a livello fisico, cerca di approfondire il discorso, cerca di prendere in modo di prendere di petto tra virgolette argomenti in questione e soprattutto cerca di trovare degne risposte. Non quindi risposte così. campate in aria come si suole dire, ma risposte concrete, risposte che cerca di individuare. Ottimo servizio, non voglio aggiungere altro proprio per non togliervi il gusto di andare e vedere i servizi in questione. www.iene.medeset.it Un saluto.